Buongiorno Aikidoca, bentornati sul canale. Lo so, sono stato assente un sacco di tempo, ma adesso vi racconto che cosa è successo. Dicevo, sono stato assente un sacco di tempo, lo so, mi dispiace, ma è stato inevitabile. Praticamente è successo che a dicembre ho dovuto fare un intervento che mi ha impedito di parlare per 20 giorni e quindi questo mi ha tolto la possibilità di fare i video della chiusura dell'anno di dicembre. Poi ci sono state le vacanze di Natale, nel frattempo ho avuto anche il Covid che tranquilli, praticamente senza sintomi, è durato un meno di 36 ore, quindi è andato benissimo. A gennaio siamo ripartiti e sono ripartito con un nuovo progetto che è stato il progetto di formazione docente in chi gioco. È stato un corso live fatto faccia a faccia su Zoom per 7 incontri, quindi per 7 settimane. Tutto il lavoro che abbiamo fatto con le persone live l'ho registrato e lo sto montando per crearne un videocorso che sarà presto disponibile sullo store. Vi terrò aggiornati, comunque indicativamente intorno alla metà di marzo sarà disponibile ma poi ne parleremo ancora nei prossimi video. Con il nuovo anno poi sono iniziate anche tutte le attività ordinarie e insieme alle attività ordinarie sono iniziate anche le attività straordinarie, seminar intensivi e lezioni speciali. Qualche settimana fa, proprio durante una lezione speciale, abbiamo trattato Kotegaeshi. Il video di oggi parla di questo, è un estratto di quell'incontro e ti fa vedere un po' che cosa abbiamo fatto durante la giornata. Anche per quanto riguarda le lezioni speciali ci sono alcune piccole novità ma te ne parlerò prossimamente. Grazie a tutti. 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 Il video per oggi finisce qui. Come sempre non dimenticare di lasciarmi un like e di condividerlo con chi pensi possa trovarne beneficio. Se vuoi darmi un tuo commento sarò felice di leggerlo quindi iscrivimi qua sotto e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao.